Ciao, siamo negli uffici del CEFA e oggi vogliamo darvi un'idea per fare un bel gesto per il vostro compleanno o quello dei vostri bambini. L'idea consiste nel condividere la vostra festa con le bambine meno fortunate del Guatemala che al CEFA aiutiamo ad andare a scuola, ebbene come con le nostre bomboniere solidali che includono una piccola pergamena che spiega il vostro gesto e che può essere personalizzata come vedete con insomma il nome e la data del vostro evento, con dei sacchettini di confetti che sono fatti con dei tulle tutti colorati, come potete vedere qua abbiamo colori vari assortiti eccetera, questo è un primo compleanno di una bambina ad esempio, la pergamena viene messa assieme al sacchettino dei confetti e tutto viene unito alla nostra bambolina del Guatemala, è una bambolina artigianale che viene proprio dai nostri progetti del Guatemala, quindi sono tutte una diversa dall'altra come potete vedere, hanno dettagli molto diversi tra loro, ci sono quelle col bimbo piccolo, quelle con l'animaletto, quelle con il cappello sulla testa, sul retro hanno una calamita come potete vedere e se avete bisogno possiamo fornirvi il tutto assemblato già grazie alla nostra Volontarianne.